20 anni fa avevano tenuto la sanatoria per le loro terrazze con vista a punte di Tiberio, affaccianti dal pittoresco borgo di San Giuliano a Rimini. Ma nel 2012 si erano visti revocare di punto in bianco il condono. Ci siamo accorti che quei permessi erano stati rilasciati in spregio alla normativa sulla tutela fluviale e quanto si erano sentiti dire gli abitanti di Via Marecchia sorpresi da tali provvedimenti. Fu allora che partì la battaglia legale tuttora in corso. Ma prima ancora che il Tarsi sia espresso sulla validità della revoca, in comune sarebbe pronta la prima richiesta di demolizione per una di quelle terrazze. La normativa, citata dall'ente pubblico, che ha fatto dietro fronte sul condono, prevede una fascia di rispetto sulle sponde dei fiumi per il deflusso delle acque in caso di esondazione. La posizione del comune è paradossale per più motivi, ci spiega l'avvocato Andrea Mussoni che segue tre famiglie di Via Marecchia. Innanzitutto perché quello specchio d'acqua non è più un fiume dato che il Marecchia è stato deviato più a nord e poi perché, pur demorendo le terrazze, rimarrebbero nella fascia di rispetto altri manufatti, ovvero una palazzina, il pilone del Ponte dei Mille e le abitazioni su Via Bassioni Settentrionali. Non si capisce, prosegue illegale, perché si voglia colpire solo queste tre famiglie. Di case con terrazze e piccoli manufatti esterni ce ne sono altre sullo stesso argine, che però, stando ai ricorrenti, non avrebbero ricevuto gli stessi provvedimenti. Una situazione che alimenta la tensione e gli interrogativi tra i pochi che rischiano di vedersi le ruspe nel proprio giardino con affaccio sulle arcate bimilenarie del Ponte Romano.